FUNDERSTRIP! FUNDERSTRIP! YEAH 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 FUNDERSTRIP! Bene ragazzi a tutti! Scusate, un recumendone valentiano! Semifinali di Eastern Conference ragazzi, tra l'altra parte c'è Clever ancora credibilmente Philadelphia, che chiaramente qua finisiamo al secondo anno, quindi le Filadepers non l'ho visto bene, ma con i rucchi o cose si è ritirata su perché nella realtà valla a cagare filadepers e siamo qua ragazzi con questo sui tago, gara 1, che vuol dire a riuscire assolutamente, devo mantenere il fattore campo assolutamente. Vai, inizia ragazzi! Grandi sfida a Rose Veneziana! Il piano nel primo giorno ha fatto cose turchi veramente, è stato un basket perfetto Mille assist, mille punti, mille di punto, veramente un kum è perfetto! Vai, terec verso stu! Noi sbaglia, eh c'è tensione ragazzi, c'è tensione! Ho fatto anche il record di assist ma nei pre-off non ho fatto troppo, perché una di kum è un po' lontana, basta! Ma mia, quella partita è tesa, questa partita la Sint, per la Sint La Sint è la dura Fatti i bursi Michael Jordan è una cosa so veneziana, se migliora in determinate cose può diventare il numero uno E se lo dice Michael Ricicchi Vai come, bravo! Padmai! Vai! Madonna che inizio di merda ragazzi, non riusciamo a mettere, non riusciamo a mettere punto Dio Vai come il buono dai Dai, guardiamo il Picken Kume, come indiano Oh la, finalmente Buono E' un'altra un ghiaccia finalmente E' anche Rose metti i primi del puntiere first della partita Dai vecchio mio E qua me l'ha ripassata subito ma Yes Dai buono buono è una buona cosa Stoudmire dai Prendiamo anche il ritro di Wade E' chiaro che deve essere entrato Il numero 6 contro il numero 1 Si io vorrei il numero 6 va bene sono Poi mi sto fissando anche il 6 Bravo come questa è una gran gioca A tiro tutto su di me e come la scarica per il piccolo Stoudmire Ecco E' un pallo Ma per favore che schifo E' un pallo E' un pallo E' un pallo E' un pallo Dell'asso Nel prodotto della Gucla University Beh qua potremmo fare poco però onestamente E' un pallo Pian pianino Pian pianino Pian pianino E' un pallo E' un pallo E' un pallo Sono strette Ma facciamo girare Grandissimi Come fanno girare bene la palla Porca pittana Adesso sono un po' concentrato, non è facile commentare perché siamo veramente, bisogna essere pesante la situazione, eh? Gasol. Vai Deng. Bravo Deng, 4 punti, 2 rimbatti, 3 assist. Vai Bosch. Bosch non ce l'ha ancora vista. Buono. Eh, questa è una grande azione, come Bosch. Eccola qua, signori. Come Bosch, 2 punti sicuri. Ragazzi, siamo all'ultimo quarto, 12 punti di vantaggio, 23 punti, 6 rimbatti. Non è un punto fallo, però forza, costano 17 assist, è una roba. Deva stanta giù, ho fatto un po' tanti falli perché soprattutto il secondo quarto era molto tirata, poi invece un dominio puro, ragazzi. Io non lo so, veramente non ho parole, è vero che come punti sono forza medie, normalissime. Da tutti gli assist in carriera sul progetto con gli uomini falli, allora, impressionante. E' peccato che il record nei playoff non si accende, ci sono male per la regola del season. No, 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 no. Sono schifato, sono schifato, ho fatto adesso, 6 minuti finali ci rigodiamo, 2 falli che non avevo capito. molto bene ma almeno male che abbiamo vinto non ho parole però alla fine c'è stato spesso ti dispiace avete visto un pochissimo la parte più importante 107 Chicago 1013 comunque alla fine Chicago sarà una serie comunque difficile peccato non ho parole non ho parole per scherzo giusto sì ragazzi sono qui con Goran Dragic e Goran che... Questo è il rischio chiaramente di non registrare tutto ma registrare solo i punti che io reputo importanti e dopo rischi queste cose quali erano mai successo finora. Abbiamo fatto un po' le statistiche, a me viene in campo veneziano, è chiaro. Eh però dei replay forse possiamo mettere i tre punti, peccato ho potuto fare ancora più di più. Vediamo quale azioni così, tre schiacciate ho fatto bomboni da tre, guardate che cume signori, guardate che roba, te lascialo, parlano per me le azioni, guardatelo, bello, mastodontico, che cume. Guardate che bello. Beniti insomma, è una partita perfetta, purtroppo anche i falli, però diciamo così la finale di conference è nostra sicuro, questo è poco ma sicuro. Asciuniamo a vedere un po' cosa hanno fatto le altre franchigie, cosa ha combinato, cartellino sbloccato, finalizzatore inarrestabile. Ma perché finalizzatore io sono un assist man, nel senso, ho quasi una media di 20 assist nella post season, non lo so. Adesso vediamo un po' come è andato le prime gare delle altre squadre. Ok, andiamo allora a tabellone playoff. E guardate voi la regola al season, 14 punti, rimbalzi 6, 9 e 5 assist, cioè è il playoff che mi sono sbloccato, cioè è impressionante, cioè 9 e 5 di assist, adesso ho quasi 20. Cioè ragazzi, è impressionante che la stazione è in playoff, cioè guardate che roba, la di punti, sono a 28 e 8, ma di assist, 15 e 7 di assist, cioè ragazzi, vabbè, possiamo perdere. Dove è il tabellone? Dove sono i tabelloni playoff? Non mi sono incoglionito. La classifica dei giocatori, squadra, analisi, classifiche, divisioni, conference, statistiche, playoff. Siamo in stagione, ecco l'NBA, niente, non c'è più il quadro playoff. Ah no, forse è qua, aspetta, aspetta, sono il pirlotto. Eccolo qua. Allora, attenzione, i Clippers hanno perso gara 1, Memphis 1 a 0, San Antonio, Cloma City 1 a 1, Cleveland vince Philadelphia gara 1 e noi abbiamo vinto gara 1. Ricordiamo che nella stagione cumandiana i Bursi sono campioni in carica con Paul Gasol, MVP delle finali, che ha battuto i Clippers. Quindi ricordiamolo, sempre nella stagione cumandiana, eh ragazzi, perché qualcuno mi dice ancora che ha vinto il Golden State. Sì, lo so, ma io parlo della stagione cumandiana. Raga, mi dispiace per il fatto vedere poche azioni salienti, purtroppo è stata un po' così. Un saluto del cumandone veneziano, prossima gara, gara 2, ancora a Miami, all'American Airlines Center. Raga, un saluto del cumandone veneziano. Ciao!